Qua bisogna essere andiamo da sto paese. Migliore sceneggiatura non originale al Davide Donatello. Volevo interessare pure a me, però andiamo. All'estero si capa meglio. Bisognerebbe capire. Una storia di amicizia. Le azzorre è il posto perfetto per voi. E scelte coraggiose. Si parla portoghese. Cavallo! Sa oggi. Sa oggi. Noi sappiamo quando partiamo, ma non sappiamo se e quando torniamo. Ultima grande interpretazione di Ennio Fantastichini. Mi dispiace un po' che vai. Eppure a me. In prima visione. Lontano, lontano. Questa sera, 21 e 20, Rai 3.